la parte dei cavi armati che chiedono la deposizione delle armi da parte delle qualità anche da parte di lì oppure da Roma che sta prendendo partita anche a Cafarnao, a Emmaus senza problemi ma poi quando è scattata Davide Jäger è qui ma là c'è il portavoce Giovanni La situazione è una situazione molto grave perché i 40 fratelli vivono dentro con 200 palestiniani con le armi è una situazione molto tensa e abbiamo 4 sorelle con loro e hanno compito lo che avevano come food con le persone dentro in particolare non hanno cibo e sono tredi psicologicamente e fisicamente che lui per ottenere un'occhia per ottenere un'occhia per ottenere altre cose grazie a tutti grazie a tutti